Dato sempre io da mangiare Vedete? Sono I Love Cat Vedete? Sono dal Grampiule perché sono appena uscita da scuola Sì, sono appena uscita dalla scuola Mellone Non ho fatto le persone ora Spero che ecco meno male Ecco lì Un cello Ecco lì Un cello 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 Oh, viene pure Camilla ora Un cello Camilla Un cello Un cello Un cello Un cello Un cello Un cello Camilla Camilla Lucilla Camilla 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 bella non è finita Lucilla dopo tutto eccola che navica non è finita non è finita Io vorrei capire dove va sempre l'ucilla, non la sto vedendo più, guardatela, non so se si vede nemmeno, ecco, fai fuoco? Si vede lei ora? Eccola, è lì, tutta fatta al sole, l'ucilla, ma l'ucilla sta pure dormendo, sta pure dormendo, vabbè, dammi l'ultima carezza. Ciao. Giustina, andiamo. Gianni. Buongiorno. Come state, tutto bene? Ancora in servizio? Eh, mamma mia, ho fatto tre anni ancora. Guarda bene. Eh, purtroppo sì. Ciao. Ar stoppabbabvi. E poi,看ожно.